Buon Natale, caro Babbo Natale, anche quest'anno mi ritrovo a scriverti. Quest'anno non è stato come gli altri anni, però ho molti desideri. Però non sono giochi, vorrei che passasse il Covid-19, che la senerità in tutto il mondo manda speranza ai bambini orfani e poveri, aiuta i medici e gli infermieri che in questo momento stanno lottando. Ti voglio bene, anche se non ho un cammino, ti vedo passare dentro il mio coricino. Ti mando un bacione a te e ai tuoi elfi. Buon Natale! Mi chiamo Simona, ho 9 anni e tra pochi giorni è Natale ed io ho tanti desideri da chiederti. Il primo mio desiderio è che questo brutto virus finisca per ritornare alla vita normale e poter riabbracciare tutti. Poi vorrei dei giochi, una Barbie, dei vestiti e un tablet. Infine vorrei che portarsi delle gare ai bambini poveri. Ti ringrazio e ti mando tanti baci. PS, proteggi la mia famiglia. Simona Scarpaci. Simona, cosa c'hai qui dentro? Questo giocattolo che cos'è? Questo giocattolo è per i bambini poveri che non se la possono permettere. È una bambola. Ah, l'hai scelta tu? No, l'hai scelta mio padre. Anche quest'anno la Croce Rossa Italiana del Comitato di Caltanissetta partecipa all'iniziativa e rigiochiamo promossa da uno a uno in collaborazione con poste italiane. Sono state raccolte una quantità notevole di giocattoli che stamattina attraverso l'ausilio della Befana verranno distribuiti alle chiese che poi li consegneranno ai bambini meno fortunati della nostra città. I giochi sono stati prelevati dalle scuole attraverso l'ausilio di poste italiane e attraverso la uno a uno sono stati ricondizionati ma soprattutto sanificati. Verranno distribuiti alle chiese e non direttamente purtroppo ai bambini perché a seguito della pandemia era un po' difficile poterli distribuire a tutti questi bambini proprio per evitare gli assembramenti.